...di dove fa l'esame di maturità e per dire non mi è mai capito... Consumare ed occhi aperti, si chiama così il percorso formativo rivolto agli studenti aretini per un corretto approccio al consumo. A promuoverlo la Camera di Commercio, il Provveditorato agli Studi e Banca Etruria. Tra i moduli previsti anche uno sulla sicurezza alimentare. Il consumo oggi nella nostra società rappresenta una necessità sotto molti aspetti indotta e questa è cosa nota. In un contesto di crisi come quello della nostra società poi rivedere i consumi in senso lato rappresenta un'iniziativa senz'altro educativa e di valore civico indiscutibile. Abbiamo fatto da trade union tra la Camera di Commercio e le scuole superiori del nostro territorio che sono coinvolte in questo progetto e siamo alla quarta annualità. Quindi un progetto valido sul piano pedagogico sia per il tempo, cioè un progetto che si prolunga per anni, è chiaro che è riconosciuto positivamente dalle scuole e anche per la numerosità degli alunni coinvolti perché sono coinvolte quasi tutte le nostre scuole superiori. sono strumenti che vi possono tutelare da questo punto di vista come per voi, per i vostri giuditori. Io sempre tornando a...